Ciao, bentornati al canale di Pepite di Scienza. Sotto la montagna del Gran Sasso c'è un'autostrada. Se voi percorrete questa autostrada, a un certo punto, nel bel mezzo del tunnel autostradale, quando vi trovate a 1400 metri sotto la roccia, c'è un'uscita. Dove andrà questa uscita? La prima volta che ho preso questa uscita è stata molto emozionante. Prendi questa uscita e arrivi a una porta metallica enorme, a quel momento mi sembrò enorme, e ti sembra di entrare in un film di guerre stellari. Sono stato al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso varie volte ed è stato sempre molto affascinante. I Laboratorio Nazionale del Gran Sasso sono il centro di ricerca sotterraneo più importante del mondo. Pensate che si sono scavate tre sale enormi sotto la roccia del Gran Sasso e oggi vi mostro delle fotografie affascinanti della costruzione di questi laboratori, fotografie come questa per esempio, e vi parlo anche di uno degli esperimenti che si trovano ora dentro il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, l'esperimento CUORE, che sta per Cryogenic Underground Observatory for Rare Events, ovvero Osservatorio Sotterraneo Creogenico di Eventi Rari. È un esperimento che va alla ricerca di neutrini e in particolare, tra le altre cose, vuole capire se i neutrini sono cosiddette particelle di Majorana, dal nome del fisico italiano Ettore Majorana. Ringrazio subito il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso per avermi concesso la possibilità di mostrare le fotografie che vedrete in questo video. Prima di entrare nel Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, vi ricordo che ho scritto due libri che trovate esclusivamente su Amazon, l'ultimo di quali si intitola Capire il tempo e lo spazio. Eccolo qui. È un libro che vi porta mano nella mano, senza chiedervi nessuna conoscenza previa di fisica, per solo comprensione del tempo, della gravità e della relatività ristretta generale, di Albert Einstein. È un libro per tutti, perché vi parla con un linguaggio semplice e al tempo stesso rigoroso, e lo fa anche con più di 60 tra figure e schemi disegnati da me, come questo per esempio. Vi lascio il link al libro in descrizione. Entriamo nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Prima di tutto, perché un laboratorio sotterraneo? A che cosa serve? Perché spendere tutta questa energia per scavare la roccia? Perché vi sono degli eventi, detti eventi rari in fisica, in natura, che per essere osservati hanno bisogno di silenzio assoluto. Nel mondo delle particelle elementari, il silenzio assoluto vuol dire che non vi sono altre particelle che arrivano all'esperimento, ai rivelatori dell'esperimento. Né particelle né radiazione, che può interferire con la misura, che può interferire con l'osservazione. Per esempio, se volessimo ascoltare con l'udito un suono molto debole, come prima cosa dovremmo fare silenzio assoluto, eliminare qualsiasi fonte di rumore, giusto? Così che il rumore non copra il suono che noi vogliamo cercare di ascoltare. Allo stesso modo, vi sono eventi così rari che dobbiamo eliminare qualsiasi altra fonte di particelle, di radiazione, in modo che non coprano il segnale. Dobbiamo eliminare il rumore, appunto si dice così, in modo che non coprano il segnale che noi vogliamo ascoltare, che noi vogliamo osservare. Dentro il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso vi sono vari esperimenti, tra i quali alcuni studiano reazioni con neutrini, con materia oscura, tutti eventi rari, tutti eventi che richiedono silenzio assoluto. I 1.400 metri di roccia della Montagna del Gran Sasso schermano i laboratori nazionali del Gran Sasso dai raggi cosmici, che bombardano continuamente la superficie terrestre, e quindi farebbero scattare, diciamo, i rivelatori degli esperimenti, coprendo l'eventuale segnale che vogliamo ricercare. In più, le rocce dolomitiche che costituiscono la Montagna del Gran Sasso sono molto poveri in uranio e torio, e quindi non presentano una radioattività naturale così intensa come invece si può trovare in superficie, sulla superficie terrestre. Le montagne riducono di un fattore un milione l'intensità dei raggi cosmici e di migliaia di volte l'intensità della radiazione naturale. Quindi abbiamo costruito un laboratorio sotterraneo per osservare degli eventi rari in silenzio assoluto. Questa è una delle sale dei laboratori nazionali del Gran Sasso. Sono state scavate nella roccia. Ognuna di esse misura 100 metri di lunghezza per 20 metri di larghezza e 18 metri di altezza. In più vi sono vari tunnel di servizio per spostarsi, per muovere i materiali, eccetera, eccetera. Per un totale di 180.000 metri cubi di laboratorio. Quando è stato costruito? Queste sono le fotografie degli scavi del 1986. Sono delle foto impressionanti se vediamo come piano piano prendono forma le sale, le tre sale del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. Si vede come scavano le sale, si vede come scavano i tunnel, si vede addirittura la scala tra l'uomo e queste sale scavate nella roccia, che è ancora più impressionante se si pensa che sopra queste sale vi sono altri 1.400 metri di roccia. L'idea di dotare l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di un laboratorio sotterraneo fu di Antonino Zichichi nel 1979. Allora Zichichi era presidente dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. I lavori cominciarono appunto subito dopo, nell'82. Entriamo in uno dei laboratori, in uno degli esperimenti dentro una di queste sale. L'esperimento cuore studia un fenomeno chiamato decadimento beta senza neutrini. Per capire cosa è, partiamo prima dal decadimento beta semplice. In natura vi sono dei fenomeni detti di decadimento o radioattivi. Per esempio, alcuni nuclei possono trasformarsi, liberarsi dell'energia in eccesso trasformando un neutrone in un protone. quindi dentro un nucleo atomico un neutrone si trasforma in un protone. Questo avviene emettendo un bosone W- che è uno dei portatori, una delle particelle portatrici dell'interazione nucleare debole, così si chiama. E poi questo bosone W- decade velocemente in un elettrone e in un antineutrino elettronico. Quindi alla fine un neutrone si trasforma in un protone che rimane dentro il nucleo e in un elettrone che viene espulso dal nucleo e in un antineutrino elettronico. Se osserviamo con dei rivelatori questo decadimento, osserviamo l'elettrone in uscita e osserviamo anche che manca dell'energia che è stata portata via da un antineutrino elettronico, il quale è di difficile osservazione, quindi normalmente non lo osserviamo, osserviamo però che manca dell'energia. Come fa il neutrone ad eccedere in un protone? Neutroni e protoni sono molto simili, ognuno è fatto di tre quark, solo che il neutrone è fatto di due quark down e di un quark up, mentre il protone è fatto di due quark up e di un quark down. Quindi quando uno dei due quark down del neutrone si trasforma in un quark up, il neutrone diventa un protone. E questo avviene attraverso, appunto, l'interazione nucleare debole che fa cambiare di sapore, si dice, i quark. Un quark down cambia di sapore e diventa un quark up. L'interazione debole è un'interazione che è capace di cambiare il sapore, cambiare l'identità di alcune particelle. Un evento ancora più raro è il decadimento doppio beta, ovvero in cui due neutroni dentro lo stesso nucleo decadono ognuno in un elettrone e in un antineutrino elettronico. Quindi in uscita abbiamo due elettroni e due antineutrini elettronici. Per esempio, è il caso del Germanio 76 che è capace di decadere doppio beta. Che un nucleo sia capace di decadere beta o doppio beta o doppio beta senza neutrini dipende dai livelli energetici quantistici dentro il nucleo atomico, livelli energetici di neutroni e protoni. Il Germanio 76 può decadere doppio beta ed è stato osservato questo evento molto raro proprio ai laboratori nazionali del Gran Sasso con l'esperimento GERD che ha osservato che il decadimento doppio beta del Germanio 76 avviene con un tempo di dimezzamento di 1,9 per 10 alla 21 anni, ovvero circa 2000 miliardi di miliardi di anni. È il tempo che ci impiega una certa quantità di Germanio 76 a dimezzare per decadimento doppio beta. Ovvero se io avessi un chilo di Germanio 76 dopo 2000 miliardi di miliardi di anni metà di questa quantità mezzo chilo di Germanio 76 decadrebbe per decadimento doppio beta. Quindi è un evento molto raro. Questo tempo di dimezzamento è molto più grande dell'età dell'universo. Eppure è stato osservato ed è un evento che è contemplato nel cosiddetto modello standard che descrive il mondo delle particelle elementari. Bene, e qui arriviamo al decadimento doppio beta senza neutrini e all'ipotesi di Majorana. Perché in un decadimento doppio beta abbiamo detto che due neutroni decadono beta ed emettono quindi un elettrono e un antineutrino elettronico a ciascuno. Quindi in uscita abbiamo due antineutrini elettronici. Ettore Majorana, fisico italiano, nato nel 1906 è sparito sotto circostanze misteriose nel 1938. Non si sa se si è suicidato, se abbia voluto sparire. Rimane un mistero. Majorana si chiese e se l'antineutrino fosse uguale alla sua antiparticella, ovvero al neutrino? Perché ogni particella ha la sua antiparticella. L'elettrone ha il positrone. Differiscono per la carica elettrica. L'elettrone è negativo, il positrone è positivo. Il neutrino, l'antineutrino. Il muone, l'antimuone, eccetera, eccetera. Ma per esempio l'elettrone è carico negativamente e il positrone, la sua antiparticella, è carica positivamente. Quindi non possono essere la stessa particella perché ha una carica opposta. Ma il neutrino non ha carica. Quindi in teoria, matematicamente, Majorana dimostrò che è possibile, sarebbe possibile, che il neutrino sia uguale alla sua antiparticella, l'antineutrino. Quindi in questo caso, Majorana dimostrò che in un decadimento doppio beta può finire la seguente cosa. Uno dei due neutroni emette un elettrone e un antineutrino elettronico. Questo antineutrino elettronico può essere assorbito dall'altro fenomeno di decadimento beta e quindi in uscita avremmo solo due elettroni. Cioè due neutroni si trasformano in due protoni più due elettroni senza emissione di neutrini o di antineutrini. E vi direte bene, tutto tranquillo, tutto bene. Invece no, perché nel modello standard vi è una legge di conservazione molto importante, la legge di conservazione dei leptoni. Cosa vuol dire? Cosa sono i leptoni? I leptoni sono costituiti da elettroni, muoni e tauoni e dai loro neutrini. Neutrino elettronico, neutrino muonico, neutrino tauonico. Ci sono tre famiglie di particelle, quelle dell'elettronico nel suo elettrone e neutrino, del muone, muone e neutrino muonico, tauone, tauone e neutrino muonico e tutte le loro antiparticelle. Ebbene, secondo il modello standard, secondo quello che sappiamo oggi della natura, il numero di particelle leptoniche, se contiamo quante di queste particelle ci sono all'inizio di un evento e alla fine di un evento, deve essere sempre uguale. Non può cambiare. E non è mai cambiato in tutti gli esperimenti che abbiamo fatto, in tutte le osservazioni che abbiamo fatto in laboratorio. Ma il decadimento doppio beta senza neutrini violerebbe la conservazione dei leptoni, del numero leptonico, perché alla fine io ho due elettroni, nuovi nuovi, ma non ho, per esempio, antineutrini. Se io ho, per esempio, prendiamo il decadimento beta semplice e mette un elettrone e un antineutrino, l'elettrone conta 1 perché è una particella, l'antineutrino conta meno 1 perché è un'antiparticella, in totale 0, quindi all'inizio avevo 0 leptoni, alla fine ho 0 leptoni, sommando in modo che le antiparticelle valgano meno 1 e quindi alla fine sono salvo. 0, 0 all'inizio, 0 alla fine. Mentre nel decadimento doppio beta senza neutrini avrei 0 all'inizio e 2 elettroni alla fine perché non ho antineutrini che sottraggono 2. Quindi si ha la creazione netta di leptoni. Per i fisici e per le fisiche di tutto il mondo sarebbe stupendo, un regalo eccezionale sapere che nei laboratori nazionali del Gran Sasso con l'esperimento cuore si è osservato finalmente il decadimento doppio beta senza neutrini perché questo vorrebbe dire che in natura può essere violato il numero di leptoni. Questo vorrebbe dire nuova fisica, capire sempre di più come funziona la natura ma veniamo all'esperimento cuore come si osserva un decadimento doppio beta senza neutrini. Prima di tutto bisogna scegliere un nucleo atomico candidato ovvero un nucleo atomico che può decadere doppio beta senza neutrini. Uno di questi è il tellurio 130 130 vuol dire che è fatto di 130 particelle tra neutroni e protoni insieme nel nucleo atomico. Nell'esperimento cuore si costruiscono dei cubi molto puri di ossido di tellurio. Questi cubi vanno isolati dal mondo abbiamo detto. Per eliminare il rumore proveniente dalla radiazione elettromagnetica l'esperimento viene portato a temperature bassissime a 10 millikelvin cioè 10 millesimi di grado sopra lo zero assoluto sopra meno 273,16 gradi. Come si fa? Si mettono le torri contenenti tutti questi cubi di ossido di tellurio dentro un criostato. Un criostato è come un cilindro enorme fatto di vari strati interni di vari cilindri concentrici più si entra dentro e più la temperatura scende. Nella parte centrale abbiamo appunto la colonna le colonne di cubi di tellurio 130. Quindi come si osserva questo decadimento doppio beta? Supponiamo che in uno di questi cubi di ossido di tellurio 130 un nucleo di tellurio decada doppio beta senza neutrini. vengono messi due elettroni back to back ovvero uno viene messo in questa direzione e l'altro in direzione opposta e viene rilasciata energia dentro il cubo. Questo cubo viene chiamato bolometro perché è in grado di rilevare quanta energia è stata depositata dentro il cubo. Questa energia deve essere pari al salto energetico del nucleo di tellurio per il cambiamento da neutroni a protoni di due neutroni che si trasformano in due protoni. quindi osservando quanta energia viene depositata in questi bolometri in questi cubi di tellurio 130 di osso di tellurio 130 si osserva se è avvenuto un decadimento doppio beta senza neutrini. In un decadimento doppio beta senza neutrini vengono messi solo elettroni i quali depositano l'energia dentro il cubo di tellurio di osso di tellurio se venissero messi anche neutrini questi neutrini porterebbero via energia senza depositarla nei cubi quindi l'energia osservata sarebbe inferiore al salto energetico che viene compiuto all'energia persa dal nucleo. Che cosa ha osservato Cuore finora? Prima di tutto sono stati fatti degli esperimenti dalle osservazioni dal 2003 al 2008 con una sola colonna chiamata cuoricino e poi dal 2017 tutte le colonne di cubi di ossido di tellurio sono state implementate costruite ed è iniziata l'osservazione. Ad oggi l'esperimento Cuore non ha ancora osservato nessun evento di decadimento doppio beta senza neutrini non sappiamo quindi se esistono particelle di Majorana particelle che sono uguali alla loro antiparticella i neutrini sono uguali alla loro antiparticella Cuore inoltre man mano che osserva mette dei limiti sempre più stringenti sul tempo di dimezzamento del decadimento doppio beta senza neutrini che diventa sempre più raro. Ora il tempo di dimezzamento è di 2,2 perdicella 25 anni 20 milioni di miliardi di miliardi di anni molto più raro del decadimento doppio beta con neutrini inoltre l'esperimento Cuore è in grado di mettere un limite alla somma della massa di 3 neutrini una somma pesata questa somma è dell'ordine del milli elettronvolt su c quadro cioè un millesimo di elettronvolt su c quadro pensate che la massa dell'elettrone è di 511 mila elettronvolt su c quadro ovvero mezzo milione di elettronvolt su c quadro quindi la massa di neutrini è estremamente piccola rispetto alla massa delle altre particelle e alla massa di una delle più leggere l'elettrone spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile e prima di lasciarvi vi ricordo che per capire meglio il tema della gravità del tempo e della relatività di Einstein potete leggere il mio libro Capire il tempo e lo spazio vi lascio il link in descrizione ciao e a presto